Olga Irimciuk. La letteratura romena nella Repubblica Moldova. Percorso tematico. Prefazione di Gaetano Passarelli. L'argomento di questo saggio, con i suoi vari momenti storici, che hanno caratterizzato l'andamento politico così importante per le espressioni artistiche e letterarie, impone avere un quadro, seppur breve, della storia, per comprendere con chiarezza i motivi dei nomi Moldavia, Moldova e Bessarabia, con i quali è stata designata questa regione, e il rapporto con l'etnia e la cultura romena. Sappiamo che Radu Negru Voda, nel 1291, fondò il Principato di Valacchia, ma fu con il figlio Basarab I che iniziò la dinastia dei Basarab, la quale regnò in quest'area fino a Basarab V Nagoye. Così solo la parte meridionale del Principato venne indicata come Terra Basarabum. Intanto, dal 1400, le terre comprese tra i fiumi Prut e Nistro, insieme con la Bessarabia, appartennero al Principato di Moldavia. Quando, verso il 1511, il sultano Bayezid II sottomise la Bessarabia meridionale, favorì l'insediamento nella regione di un gran numero di tartari della Crimea. Questo costituì un primo passo che portò, nel 1538, alla conquista della città di Tigina, sita sulla riva destra del fiume Nistro, cioè nella regione storica della Bessarabia. Così il Principato di Moldavia, che comprese la Bessarabia, divenne uno stato vassallo dell'impero ottomano. La fornitura di grano a Istanbul assicurò una certa autonomia interna e il privilegio del sultano a non imporvi la costruzione di moschee. Questa situazione si protrasse fino agli albori del XIX secolo, allorché le mire espansionistiche dell'impero zarista verso sud generarono il conflitto russo-turco e a farne le spese fu la Bessarabia, che ebbe a paterne pesantemente. Infatti, alla fine delle ostilità, nel Trattato di Bucarest del 1812, alla Russia dello zar Alessandro I fu concessa la metà orientale del Principato di Moldavia, mentre la metà occidentale rimase sotto il controllo ottomano. Si venne così a costruire un nuovo assetto territoriale, perché il confine divisorio tra i due imperi non correva più lungo il Nistro, ma lungo il Prut. Nel territorio assegnato, la Russia stabilì il governatorato di Bessarabia con capitale Kishinov, estendendo il nome Bessarabia, originariamente attribuito solo alla parte meridionale dell'ex Principato di Moldavia, all'intera area di sua pertinenza. In questo momento storico iniziò il vero cambiamento. Difatti, mentre nei negoziati di Bucarest la Russia aveva promesso un'ampia autonomia per la Bessarabia, dopo soli 16 anni lo status speciale fu revocato, mirando alla creazione di una nuova identità bessarabica di matrice slava per tutelare le proprie pretese di potere sui romeni che vi abitavano. Il processo di russificazione, quindi, riguardò particolarmente la popolazione autoctona, per lo più romena, attraverso modi diversi. Per prima cosa, i governatori zaristi cercarono di agire sulla lingua, introducendo il russo come unica lingua ufficiale. Fu un crescendo. Nel 1829 fu vietato l'uso della lingua romena nell'amministrazione. Dal 1833 le funzioni religiose non potevano più essere tenute in romeno e tutti i registri della chiesa locale furono bruciati. Nel 1842 la lingua romena fu rimpiazzata dal russo in tutte le scuole elementari e l'insegnamento del romeno fu soppresso del tutto. Allo stesso tempo si incentivò l'arrivo di coloni provenienti dalla Russia e dall'attuale Ucraina con privilegi come la concessione di terre, prestiti senza interessi, estensione delle tasse per dieci anni, autogoverno, libertà religiosa e disinzione del servizio militare, mentre costrinse i romeni a stabilirsi in altre regioni dell'impero, specialmente in Siberia e nella regione del Cubana. La borghesia, per rimanere in Bessarabia, era costretta ad accettare l'assimilazione alla cultura russa. Questi provvedimenti spinsero molti romeni a fuggire verso ovest, attraverso il fiume Prut, cosicché la colonizzazione portò a un cambiamento demografico, provocando una diminuzione sensibile della popolazione di etnia e cultura romena. Il nuovo assetto non durò a lungo, perché la sconfitta russa nella guerra di Crimea del 1853-1856 portò alla pace di Parigi, nel cui trattato una parte della Bessarabia meridionale, l'area della foce del Danubio, circa un quarto della superficie totale tornò al Principato di Moldavia. In tale modo Mosca perdette il suo accesso, strategicamente importante, alla foce del Danubio. Tuttavia, la Romania dovette cedere di nuovo questa parte della Bessarabia alla Russia nel Trattato di Berlino del 1878. All'inizio del XX secolo, le sanguinose rivolte nel governatorato russo della Bessarabia, 1903 e 1905, preannunciarono in un certo qual senso il rovesciamento dell'impero zarista. Dopo lo scoppio della rivoluzione d'ottobre, un consiglio provinciale con sede a Kishinov assunse il governo della Bessarabia. L'organo era composto da 156 membri, di cui 105 erano di etnia moldava-romena, una rappresentanza significativamente alta in rapporto alla popolazione totale, in cui questo gruppo raggiungeva appena la metà. Il 15 dicembre 1917, il Consiglio provinciale di Bessarabia proclamò la Costituzione della Repubblica Democratica Moldava, che tuttavia non ambiva alla piena indipendenza, ma a rimanere a far parte di un nuovo Stato russo, godendo di una grande autonomia. Questo stretto legame fece sì che, scoppiata la guerra civile tra Bolshevichi e Menshevichi, bianchi, le truppe comuniste del Rumkerod, Comitato Esecutivo Centrale dei Soviet del fronte romeno, Flotta del Mar Nero e Distretto Militare di Odessa, occuparono Kishinov il 5 gennaio 1918, portando la Bessarabia sotto il controllo bolshevico. Il Consiglio provinciale proclamò la piena sovranità del paese il 6 febbraio 1919 e chiese alla Romania assistenza militare. Le truppe romene invasero la Bessarabia e, dopo brevi ma intense battaglie, la sottomisero completamente. Alla cessazione delle ostilità, però, le truppe romene rimasero nel paese, cosa che fu percepita dai Bessarabiani delle diverse etnie come segno di un'imminente annessione alla Romania. Tant'è vero che il 27 marzo il Consiglio nazionale, all'epoca composto da 135 deputati, votò ufficialmente l'unificazione con la Romania con soli 86 voti a favore. Solo due dei deputati erano di origine non romena. Il resto si astenne proprio per protesta contro la presenza delle truppe romene. Come era prevedibile, il 9 aprile 1918, la Bessarabia dichiarò l'annessione alla Romania per l'eternità e, nel novembre 1918, con soli 44 deputati presenti, il Consiglio provinciale votò per l'unione incondizionata. Nel 1920, nel Trattato di Parigi, l'annessione della Bessarabia alla Romania fu riconosciuta legittima da Francia, Regno Unito, Italia e Giappone, mentre gli Stati Uniti si opposero a causa della mancata inclusione dell'unione sovietica nei negoziati. Intanto, in Bessarabia, per la prima volta dal 1812, la metà della popolazione romena tornò ad esprimersi nella lingua madre. Ma le minoranze etniche e linguistiche, che costituivano l'altra metà della popolazione, soprattutto quelle russofone, reagirono alle politiche di romanizzazione con diverse rivolti armate, finalizzate all'annessione all'Unione Sovietica. Nel 1924, Mosca chiese che si tenesse un referendum in Bessarabia. Al rifiuto della Romania, l'Unione Sovietica ritenne la regione territorio sovietico sotto l'occupazione straniera. Sulla riva orientale del Nistro, in territorio della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, con una minoranza significativa di lingua romena e di etnia moldava, fu fondata la Repubblica Socialista Sovietica Autonoma Moldava, che rivendicava la Bessarabia. La Romania provvide a creare un'amministrazione centralizzata che suddivise la Bessarabia in nove contee. Nel periodo tra il 1918 e il 1940 ebbe luogo uno sviluppo economico, anche grazie al fatto che i romeni incentivarono fortemente i lavori di realizzazione delle infrastrutture. La lunga unione con la Russia, tuttavia, aveva lasciato il segno e non tutti i romanofoni della regione si consideravano romeni. Una fetta consistente cercò di perseverare un'identità moldava diversa da quella romena. Poiché il sentimento filosovietico risultava diffuso in svariate parti della Bessarabia, l'amministrazione centrale preferì nominare romeni provenienti da altre aree del paese, poiché molti locali erano percepiti come potenziali simpatizzanti sovietici o spie. Quando si ebbe l'armistizio di Compiegne, 22 giugno 1940, dopo la capitolazione della Francia, la Germania pose la Francia nord e sud-occidentale fino ai Pirenei sotto diretta occupazione tedesca. Con la Francia sconfitta, la Romania aveva perso il suo più stretto e potente alleato. Così l'URSS comprese che era il momento giusto per tornare a insediarsi in Bessarabia, dopo 22 anni di illegittima, dal suo punto di vista, appartenenza alla Romania. Il 28 giugno 1940, l'armata rossa sovietica occupò il territorio della Bessarabia senza alcun combattimento, perché la Romania, ricevuto l'ultimatum 48 ore prima, si ritirò semplicemente. Osservando quanto stabilito nel Trattato di non-aggressione fra il Reich tedesco e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, comunemente chiamato Patto Molotov-Ribbentrop del 1939, la Germania nazista tollerò l'occupazione, dimostrando a Mosca il suo disinteresse per la questione Bessarabica. Il 2 agosto 1940, pertanto, l'Unione Sovietica divise la Bessarabia nella Repubblica Socialista Sovietica Autonoma Moldava, costituita dal nord e centro del paese, mentre a sud della zona di Kotin la assegnò alla Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, perché gli ucraini costituivano la maggioranza della popolazione in queste aree. Subito dopo l'occupazione, l'URSS collettivizzò l'agricoltura e, allo stesso tempo, iniziò un'ondata repressiva contro i romeni, i nazionalisti moldavi, i kulaki, gli antisovietici, che culminò nella deportazione di circa 250.000 persone. Il 4 settembre 1940, Ion Antonescu, divenuto primo ministro e duce della Romania, si alleò con Hitler. Così, quando il 22 giugno 1941 iniziò l'attacco tedesco all'Unione Sovietica con l'operazione Barba Rossa, partecipò con circa un milione di soldati dell'armata romena nel settore meridionale del fronte. Durante la ritirata, i sovietici cercarono di fare terra bruciata in Bessarabia, trasportando tutti i beni mobili in Russia. Alla fine del luglio 1941, il paese, in ginocchio, tornò di nuovo sotto l'amministrazione romena. Nel 1944, dopo tre anni di appartenenza alla Romania, il fronte tedesco-sovietico aveva nuovamente raggiunto il confine orientale del paese sul Nistro. Il 20 agosto 1944, l'Armata Rossa diede il via a una offensiva estiva su larga scala chiamata Operazione Yasi-Kishinov. Con una manovra a Tenaglia, riuscì a insediarsi nella Bessarabia storica in cinque giorni. La Sesta Armata tedesca ebbe gravissime perdite. Perciò, il 23 agosto 1944, re Michele I, sostenuto dai principali partiti politici romeni, seguendo l'esempio di Vittorio Emanuele III con Mussolini, convocò Antonesco, lo destituì e lo fece arrestare. Nel marzo 1945, le pressioni politiche costrinsero Michele a nominare un governo filo-sovietico guidato da Petru Groza, che il 30 dicembre 1947 lo costrinse ad abdicare e andare in esilio. Dopo la riconquista della Bessarabia da parte dell'Armata Rossa, fu restaurata come entità politica la Repubblica Socialista Sovietica Moldava, che rimase legata all'URSS fino alla sua dissoluzione nel 1991.